Nel pomeriggio Pierluigi Bersani è stato a Porto Torres dove nella torre aragonesi ha incontrato i lavoratori. Una lunga chiacchierata con gli occupanti della stessa torre in cui non manca una telefonata con i cassa integrati dell'Asinara. E dopo l'incontro ascoltiamo la voce di uno di loro. Bersani alla torre aragonese, quali sono le tue impressioni in merito? Intanto ce l'aveva promesso l'altro giorno quando abbiamo avuto due occasioni di scambiare quattro chiacchiere con lui a anno zero. Il giorno dopo aveva richiamato lui sull'isola dell'Asinara al nostro tiranno per dirgli che comunque si era vicino alla nostra avvertenza. E accoglieva l'invito con una vigilanza maggiore sulla nostra avvertenza e su tutto quello che riguarda la chimica italiana. Quindi questa era una piccola premessa che ci teneva a fare. Sulla visita alla torre aragonese noi giustamente abbiamo specificato che non ci interessano le visite di campagna elettorale. Ma ero convintissimo che lui venisse come uomo comunque come ha dimostrato. È venuto come uomo, come personaggio politico sì ma non per campagna elettorale. Ascoltiamo il racconto della battaglia di uno degli occupanti della torre aragonese. La mia battaglia la sto portando avanti dal 7 di gennaio qua dentro ogni giorno, mattina, pomeriggio, notte. Più che una battaglia sta diventando una crociata perché se continua così è arrivato a un certo punto. Spero di non farci un anno qua dentro perché il mio pensiero principale è ritornare al mio posto di lavoro. Io ho dieci anni di chimica, bene o male sono un tecnico specializzato, vorrei tornare a rifare il mio lavoro visto che ho sudato per ottenerlo perché come avete ben capito qua nel circondario non è che ci siano tanti posti di lavoro. In realtà voi puntate a qualcosa da ottenere tutti insieme quindi non singolarmente, giusto? No, 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 qua di individualità non se ne devono soltanto parlare. Il nostro discorso è ritornare tutti e 120 a lavoro perché il discorso è semplice. Se mancheranno questi 120 posti di lavoro, cioè mancherà la Vines a Porto Torres, il petrolchimico da dove ogni mese escono fuori 3.500-4.000 buste paga considerando l'indotto, non avrà più senso di esistere perché i costi fissi del petrolchimico diventerebbero insostenibili e magari si darebbe il presupposto all'Eni per poterci, per poter chiudere la fonte di reddito che esce da quella fabbrica lì. Cosa fate nella torre tutto il giorno? Beh, nella torre giustamente vivi la giornata, leggi i giornali, ascolti i problemi che hai, spieghi soprattutto alla gente che cosa stai a fare qua perché giustamente vengono turisti, vengono anche molte persone anche nel nostro territorio che non conoscono il nostro problema e noi lo spieghiamo e soprattutto spieghiamo anche che cosa sono queste croci bianche qua perché molta gente all'inizio li ha prese male perché le consideravano come il monumento alle morti bianche sul lavoro, morti di cancro invece noi non li abbiamo spiegato assolutamente, tanto di rispetto a chi è morto di cancro soprattutto perché quella è un petrolchimico però questo sta a rappresentare il cimitero, cioè la morte del lavoro che è una cosa completamente diversa dalla morte del singolo individuo come persona questo noi lo spieghiamo per far capire alla gente che noi non stiamo prendendo in giro nessuno e non scherziamo assolutamente col sacro che è tanto il rispetto per i cimiteri, però questo era proprio un atto dimostrativo per far capire alla gente che cosa voleva dire e cosa stiamo andando incontro cioè proprio alla morte del posto del lavoro, non alla morte del lavoratore, questo ci tenevo proprio a specificare